Covid. Nella provincia di Caltanissetta, secondo quanto divulgato dall'ASP nell'ultimo bollettino che rimanda ai dati delle ultime 24 ore, i guariti sono 112, mentre i positivi al virus sono 99. Tutti in isolamento domiciliare, dei quali 40 a Gela, 26 a Caltanissetta, 8 a Niscemi, 7 a San Cataldo, 4 a Serra di Falco, 3 a Campofranco, Milena, Mussomeli, 2 a Santa Caterina Villarmosa, 1 a Bonpensiere, Marianopoli e Montedoro. Ad essere ricoverati in degenza ordinaria sempre nelle ultime 24 ore sono tre pazienti, uno di Caltanissetta, uno di Sommatino e uno che proviene da fuori provincia. Tre invece i pazienti dimessi dalla degenza ordinaria, uno di Gela, uno di Caltanissetta e uno proveniente da fuori provincia. Deceduto un paziente di Gela positivo al SARS-CoV-2 e intanto si avvicina la data del 15 giugno in cui si darà un ulteriore addio alle mascherine. Non serviranno più al cinema, né nei teatri, né nelle manifestazioni sportive al chiuso. Circa in mezzi di trasporto la valutazione da parte del Governo è in corso.